A poche ore dal trionfo elettorale nella Lega del viceo scoppia il caso candidature alle politiche. Cinque segretari di sezioni si sono dimessi, sono quelli di Verbagna, Stresa, Baveno, Vallestrona, Trontano e Varzo. Spiegano, ci hanno chiamato a Torino per firmare la candidatura, poi ci hanno detto no. De Magistris lascia la Lega dopo 25 anni, Montani oggi ha diffidato i dimissionari a usare i locali della Lega per una conferenza stampa. Informare in tempo reale i cittadini è l'obiettivo di Alert System, sistema di informazione telefonica avviato nei 17 comuni dell'Unione Valli dell'Ossola. Comunicazioni che saranno inviate in caso di allerto o pericolo, ma anche per l'ordinaria amministrazione e per gruppi di interesse. È disponibile pure un'app da scaricare sul proprio smartphone, già inseriti nel database, i numeri fissi. I cellulari invece vanno comunicati attraverso il sito del comune. Lucio Pizzi chiede di allontanare i migranti e ospiti in alcuni alloggi di via Giovanni XXIII a Domodossola. La situazione è inaccettabile, spiega. O una lettera di protesta da parte dei condomini che lamentano rumori e sporcizia e soprattutto denunciano un continuo via vai di sconosciuti, fatto che crea preoccupazione in particolare nelle ore notturne. Pizzi ha quindi invitato il CIS a chiudere entro fine anno questo appartamento che ha ospitato prima sei e poi dieci migranti. Jessica Notaro, la missa romagnola sfregiata al volto con l'acido dall'ex fidanzato nel gennaio 2017, è stata testimonia della serata promossa al Maggiore. Ieri, nell'ambito del ciclo di eventi, Verbagna si tinge di rosa una serata voluta per parlare di donne e lanciare un messaggio di speranza verso chi combatte contro la violenza di mariti, compagni e fidanzati. Parla tedesco la tredicesima edizione dell'Italian Sculling Challenge. In campo maschile la vittoria è andata a Giuliano Schneider che ha preceduto Joachim Agne e Gabriele Suarez, tra le donne il successo di Vera Spanche che ha messo dietro le gemelle Giulia e Sofia Wolf. La prova di domenica è stata dimezzata per l'Agomosso, 3.000 metri e non 6.000 metri. Il trofeo Massimo Forni è andato al Master C Fabrizio Galletta del Varese. Grazie a tutti.